Gli ospiti dei centri di accoglienza e richiedenti asilo coinvolti nella gestione di uno stand enogastronomico, workshop di teatro e cucina, musica e cibo dal mondo per il Castellammare Culture Fest 2016 in Piazza Petrolo. Tre giorni di scambio culturale patrocinati dal comune ed organizzati dal collettivo Trinart con la collaborazione di Sicilia Antica. Il festival che gli organizzatori hanno proposto lo scorso anno in veste diversa, sempre in Piazza Petrolo, nasce con l'intento di valorizzare il territorio e sviluppare una rete tra le diverse realtà. Integrazione, sensibilizzazione e scambio culturale attraverso l'arte e il cibo, affermano il sindaco Nicolo Coppola e l'assessore alla cultura Salvo Bologna. Un modo per creare realmente una rete, confrontarsi e promuovere la vera integrazione, poiché il festival prevede il coinvolgimento degli ospiti dei centri Sprar e Cass del territorio di Castellammare del Golfo. Ringraziamo gli organizzatori per la proposta interculturale di valore sociale, curata da varie associazioni e nato dall'iniziativa dai fondatori di Trinart, Simona Nasta e Marta Galante. Importante e significativa anche la collaborazione di altre associazioni, privati ed esercenti, continuano ancora Bologna e Coppola, che dimostrano la produttività della collaborazione pubblico-privato. Il programma dei tre giorni del Castellammare Culture Fest di Piazza Petrolo prevede, nel pomeriggio di venerdì 9 settembre alle 18.30, l'inaugurazione del Villaggio dei Popoli, stand di gastronomia artigianato. Alle 19 la presentazione del libro di Alexian Santino Spinelli, Rom questi sconosciuti. Sarà presente l'autore e l'associazione Rompiamo i Pregiudizi. Alle 21.30 la proiezione del film partiti per la Iobba di Claudio Colomba, storie di castellammaresi emigrati negli Stati Uniti. Sabato 10 settembre alle ore 11 la visita guidata al Museo Etno-Antropologico Analisa Buccellato a cura di Sicilia Antica. Dalle 10.30 alle 14 il laboratorio di cucina siciliana condotto da Finalessi, che insegnerà come si fanno i maccheroni e il sugo di pomodoro fresco e melenzane. Alle 18.30 l'apertura del Villaggio dei Popoli. Alle 19 la presentazione del libro Le Contradanze del Golfo a cura di Viviana Navarra dell'Associazione Sicilia Antica. Alle 21.30 il concerto di Alexian Santino Spinelli e dei partecipanti al workshop. Domenica 11 settembre la chiusura con l'inaugurazione del Villaggio dei Popoli, che sarà seguito dalle 18.30 da un laboratorio artistico per bambini a cura dell'associazione Città Attivarsi. Alle 20.30 la premiazione dello stand più rappresentativo, migliore presentazione. Alle 21.30 lo spettacolo della regista Cristina Coltelli e dei partecipanti al workshop.